Un settore, quello della sanità, che negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, soprattutto con l'investimento nelle nuove tecnologie e nella telemedicina. In occasione del 45esimo anniversario dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nel Teatro Cursa al Santa Lucia di Bari, una giornata di confronto tra operatori e stakeholder della sanità, dal titolo Un nuovo impegno per la salute. Un momento di confronto durante il quale è emerso l'impegno dell'Italia nel settore della telemedicina per migliorare le prestazioni in relazione soprattutto alle malattie croniche. Intanto la situazione è per l'Italia intera e non solo per la Puglia, perché l'investimento è un investimento straordinario, innovativo, un investimento che permetterà al sistema sanitario italiano di fare un passo in avanti straordinario. Nel corso del 23, grazie all'impulso che ha dato il ministro Schillacci, radiologo, e al sottosegretario Gemmato, farmacista, che hanno creduto fortemente in questo investimento in telemedicina, noi abbiamo lavorato per costruire la piattaforma nazionale di telemedicina che ci è stata consegnata da qualche giorno. Prima di Natale si concluderà la gara assegnata alla Lombardia per i verticali di telemedicina. A marzo la Regione Puglia finisce la gara per l'hardware di telemedicina. Tutto questo per permettere da giugno in tutta Italia tutti i medici di medicina generale, tutti i pediatri di libera scelta, 50.000 medici dipendenti, 460.000 postazioni di telemedicina, telemonitoraggio. L'obiettivo è quello di, a fine del 2025, un milione di italiani in telemonitoraggio.